Ciao ragazzi, bento in questo nuovo episodio di Warframe con finalmente grazie al nuovo quest, ovvero il richiamo della tempesta, se ricordo che si chiama così, si bene, io direi che appena il gioco ciò promette di cominciare subito, l'aviamo? Grazie che domanda è subito, ovvio che l'aviamo, così diretto, c'è arrivato subito un'email, ok andiamo un po', con voi il corpo si è in movimento verso la zona rossa del void space, perché è attaccato, boh, va bene, rotta abbandonata da tempo, tempeste void, anomalie, falle temporali, ricorda la piattaforma, luciferi, lucrife, lucre, tif, a, non direi che cosa sia però che, disastro, risultato finale, rincursione in quel luogo, siamo, non siamo benvenuti laggiù, eppure i corpus vi stavano, stavano tornando, sarebbe subito in, indagare, stadi a bordo, stiamo per fare qualcosa di stupido, bene, sta lasciando il mio incredibile capacità di parlare, devo dire che è stata un'ottima idea, tutta via, per curiosità, visto che si è uscito il nuovo warframe, ecco il quale è il tempeste void, ah, ah, credo che cambieranno, sono sempre stesse, per la domanda lo scopriamo solo giocando, e andiamo, andiamo ragazzi a sbarciarci, sbarciarci di cose in un, perché ho delle cose mk1? il mistero della vita ragazzi, il mistero della vita, togliamo due cose giusto per fare spazio, sono sincero ragazzi, non è al previsto che, avessi quella roba là, ma, sapete come è il rej, che ogni tanto la fai, ogni tanto ti dimentichi, di avere al suo interno, un casino di immundizia, e purtroppo è così, per quanto devo ancora andare a calcolare, perché ho delle roba mk1, ma ok, ragazzi ragazzi vi presento il mio equipaggio, devo avere ragazzi il mio comodoro, il mio leach, fate figo, cattiva ragazzi, due cattiva, partono un po' con le fima pure, cos'è scusa, e dov'è? catastrofe, eccolo qui, ci siamo messi prima di, oltre a momenti di lag, perché non ho giocato, comence salvage, void storm resurgence, probable, get the lead out, uh, cos'è? si, grazie, la mia bellissima nave, immortale, per tanto al fatto che, anche se piglia danni, non mi è una battuta, ma al fatto che, nonostante piglia danni, comincio a farne di più, e dopo, fa tanto male, ai nemici, ragazzi, per chi si sta chiedendo il nostro, come ho messo i personaggi, il nostro Amel, la nostra Amel, in realtà, perché non fai, no, seriamente, c'è stessa, io in realtà ando a sapere che è tutto, il tasto di aver sparato in automatico, ma ok, c'è stessa, devo dire che, tutto quanto così, vuoto, ok, c'è il livello 18, nemici, non lo so qualcosa brutta, oppure nel vague, mettimi, quel livello mi deve far, pentire, di essere venuto, c'è nessuno, visto che, anche prima, per aggiornarsi, ero perfetto, pienamente a posto, quindi, cosa raccogliere, che sarà mai così inutile, per me è tutto quanto è interno, a parte i nuovi mod, perché, come possono venire, si andando, effettivamente, non che sono in avanti, pa 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 spettano, la mente che, non è che, non ci fanno, che già intorno, sono abbrattato, Oh. I should have expected tenorats among the flotsam sequestered that rail jack for pavos Ok riuscito a rimettere così funzione devo dire ragazzi che non è quello che sia stato normale il fatto che il mio riggio che continua a girare la intorno così anzi il fatto che mi compaiono le cose sotto la Ah Scusi di evitare l'ho sconosciuto, dove l'hanno sconosciuto a proposito? Sì, quindi esattamente cosa dovrei aspettarmi? Ah, bello, mi sparo pure. Ah, non lo so, sparano a me. Bene. Sono particolarmente incredibile il fatto che ha fatto un colpo e l'hai riuscito ad abbattere... Ah, ok. Quello dove fu, ma poi è stato già fuggendo. È incredibile che si è sparato un missile, presumibilmente si è diviso in molte parti e ha distrutto un corpus. Captain Glarios knows something about that vessel. Crew, infiltrate and recover the Orokin era naval records. Our ghost ship has a name. I want it. Perchè giro che sti giro, dobbiamo sempre fare di noi tutto quanto il lavoro sporco? Eh, vabbè, andiamo lo stesso. Tanto. Ah no, i nodi di sicurezza, che paura. Io devo entrare a la parte della entrata. Mi raccomando, non graffiatemela. Ma se non mi sapevano loro che quella è la mia nave, non lo sapeva nessuno. Oh, che bravo, hanno messo farsi quindi di spionaggio. Per quanto, la cosa brutta sia in missione attuale di Rayjack, che è... Dico, intendo come questi guiazzi, che sono troppo uguali a quelle normali. Mi aspetta qualcosa di più diverso, io. Anzi, lo vorrei vedere tanto, qualcosa di più diverso, ma... Ok, dai, non si può avere tutta la vita. Death of Earth... Abbi di 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 di... Aprivo il servino. Ill'inmortacia chi è che ha avuto hauntedころ di sotto? Tra brillanti devo, ovunque, se ragazzi, rimettere un forte... qualcosa di luci esterne, in quel punto, ma ok. Oh, è quella in unità. Io vado al cecchino, assassino, quale sono? Ah, bello! Questo è un spettacolo che giungessero anche i toni qua. Beh, però non pensavo che l'hanno messo, sembra bellino. Dov'è che era? Ok, perfetto. C'è Fanon, non monte, ecco il CV, non vedo come si chiama sto tizio, più grato come si pronuncia. Tutte le leggi che sono nella vecchia guerra. Quindi il giro che si dice ovviene da lì, è stata creata recentemente. Anche in questo caso non è che sia una grande perdita. Ok, dai. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ci sono alcance sui miei piccoli sententini all'i aspetti, ma... o o o bell'o e io ho svetto strada ah che bello c'è quella che io lo ho tantissimo se fosse capitato io sono sarcastico, odio questo tipo di missione se fosse postiglia sopra anche se potesse non sarebbe un'idea intelligente fantastico da lì è bloccato perché meno gioia il fanno è chiuso anche qui? sì perché ribadisco meno gioia rinunciate la camera, tolto pure qui e siamo a posto che bello quando devo mettere le telecamere nei posti di risonare a livello alto che bello quando devo mettere le telecamere nei posti di risonare a livello alto interessante, final mission contains a black mark refusal to withdraw logs record final transmissions calling into the void before being engulfed she has been calling ever since the tempistari went down saving lives she still waits for an answer bene infatti un po' subito l'energy jack di norma potete esportarmi lo sai vero gioco se stanno nel gioco dovresti spiegarmi qual è la differenza tra prima e ora ma ok quindi ci vedo dove si va ha fatto tutto lui in automatico non che mi dispiace però ma anche ho preso l'amioneggio ecco è tutto riuscito è tanta roba inutile non so perché ma ho come l'impressione che prima o poi lo incontreremo mentre viaggiamo per di qua posso avere questa sensazione ma non so se si avvererà mai ah, direttamente al dojo poco testurizzato se non è che siamo molto chiaro eh non è che siamo molto chiaro eh detto ciò quindi cosa che si vediamo un po' cosa ci dice ok quindi è un'altra missione di jack di 16 questo è esposto che si quindi che facciamo qui e partiamo intanto avrei prodotto anche vedrete alcun momento sulla mia nave la bellissima è Tempest che noto ragazzi la similitudine tra le due cose ma ok sappiate ragazzi che è una cosa totalmente casuale guardate la Tempest non si può fermare la Tempest è incredibile la mia terza potenza la Tempest in tutto il suo magnifico splendore in nero e verde perché questo è il mio gusto esterico e nessuno si deve lamentare grazie e non so neanche perché in realtà vi so facendo vedere questa incredibile cinematic che schippo sempre non so perché le ultime volte che ero schippata mi sono arrabbiati con me perché era la mia nave perché hanno già tentato di fregarmi tre o quattro volte e ci sono riusciti quel problema tutto era un barlume di viola quando siete alla sua porta ci ho mai fatto caso se vorrei che il mio window mi dicesse cosa pensa di tutto ciò di il mio window cosa pensi ok poi ciò deve essere con un piccolo iniziatore poi ciò deve essere con un piccolo iniziatore orrokin era distress signal here goes nothing who waits for the shadow your golden masters che mi fu a lui dire niente evasivi manovri attentati in comunicazione e ma va gioco grazie tutti gli aurika via si tempestari all aboard are safe your mission complete the tempestari has lowered shields crew your presence is requested aboard the tempestari mmm non so perchè ma come l'impressione che non finirà bene come dove lo pensaci tu quindi se fossi trovato avuto cosa avrei ottenuto ragazzi ora vi invito a chiedervi è vero come la mia nave? questa è la mia nave ok grazie io vi invito a chiedervi come sarebbe stata questa quest se ci fosse stata più spazio qua parte il dialogo no bene qui qui è non 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 è è non ci un bar mi pr Aspettando... 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 Uh... Ho con le persone che mi viene estremamente male, vero? Hän befiam le mani, vero? Ou aca io mi viene? Aspettandolo franco yes he can, huzzah unannoyed 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 Grazie a tutti. 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 Il quote è praticamente una cosa che voglia. Grazie a tutti. 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 Oh, bello. I cannoni, We're not ready for this. I'm 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 not ready for this. We're not ready for this. Today, we're not ready for this. Ah, we're not ready for this. We're not ready for this. Ok. I'm not ready for this. We're 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 ready for this. We're ready for this. We're not ready for this. skin. We're not ready for this. We're not ready for this. We're not ready for this.